Oroscopo del giorno, lunedì 20 novembre 2017. Ariete. Toro. Lavoro, nella sfera professionale vi muoverete con disinvoltura per risolvere con arguzia e intelligenza un problema difficile. Gemelli. Corrella in dolce compagnia. Lavoro, imprevisti sul lavoro vi creeranno qualche problema, che però non interferirà con la riuscita di buone trattative. Cancro. Amore, le relazioni sentimentali oggi ricevono un nuovo impulso grazie allaspetto favorevole luna-marte. Sarete coccolati e desiderati dal partner. I cuori solitari saranno attivi e sfrutteranno tutte le occasioni per conoscere lanima gemella. Lavoro, qualche momento d'ansia riguardo una questione che sembra complicarsi vi renderà nervosi. Non preoccupatevi. Leone. Amore, sarà un inizio settimana gioioso e allegro, sarete propensi a fare lunghi discorsi con il partner rivelando le vostre capacità analitiche e riflessive. Il capisma oggi è la risorsa dei single che avranno il desiderio di conoscere e frequentare chiunque, senza imbarazzi o timori. Lavoro, l'autostima è in salita e vi porta a credere in quello che fate. Procederete dritti verso gli obiettivi. Virgine. Amore, prendetevi del tempo in una relazione che sembra non vi dia più soddisfazioni. Magari potrete vedere le cose sotto una luce migliore e scoprirete nuove prospettive di vita. Nuove passioni per i single che faticheranno a tenere a badalero se faranno strage di cuori. Lavoro, chiarite i termini di un accordo prima di firmare o fare passi di cui potreste pentirvene amaramente. Bilancia. Amore, sarete sereni e disponibili con gli altri e porrete la vita privata e le amicizie al primo posto. Non rinviate i progetti col partner per pigrizia e cogliete i suggerimenti dell'intuito. La luna stuzzica nei single la voglia di novità. Molti di voi potrebbero decidere di lanciarsi in un'avventura sentimentale. Lavoro, la gestione del denaro vi creerà qualche piccola incertezza. Attenti agli investimenti, siate oculati. Scorpione. Amore, non giudicate gli altri senza conoscerli. Se non volete grattacapi, tenetevi lontani da storie sentimentali complicate e da persone ambigue. Se siete single, oggi sarà facile intrecciare flerto o vivere emozioni fugaci ma intense con qualche nuova conoscenza. Lavoro, oggi dovete muovervi con cautela sul piano finanziario, occorrono le mosse giuste per far quadrare conti e bilanci. Sagittario. Amore, piccoli contrasti in amore non fermeranno la vostra vitalità. Oggi potrete trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e le dimostrazioni di affetto vi renderanno felici. I single saranno desiderati e molto corteggiati, ma saranno ancora più confusi. Lavoro, se siete in cerca di lavoro, non aspettate che ve lo portino a casa, ma rimboccatevi le maniche. Capricorno. Amore, non deludete chi vi ama adottando un comportamento freddo e ostile. Piuttosto, parlate dei vostri problemi con la persona del cuore che potrà aiutarvi a risolverli. I single avranno una forte e rassicurante intesa con vergine e toro. Lavoro, è un buon momento per progettare il domani. Oggi alcuni eventi straordinari nella vostra vita professionale potranno essere decisivi. Acquario. Amore, gli astri vi rendono amabili e disponibili, inclini ad accettare cambiamenti e anche qualche insoddisfazione nella vita sentimentale. Qualche dubbio riaffiora sulla vostra storia. Se siete single potreste avere una sintonia speciale con una persona che già conoscevate. Finanze a posto. Amore, fate una pausa ed analizzate a fondo le situazioni che non vi soddisfano, evitando però di cadere nel pessimismo. Trovate il coraggio di parlare con la persona amata. Venere sprona e singola a farsi avanti, a non lasciarsi scappare preziosi occasioni per migliorare la vita sentimentale. Lavoro, oggi potreste concludere un accordo legale o amministrativo che vi preme molto. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.